Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Calcio Mercato Oggi probabilmente vi sto parlando di uno degli acquisti più random O che comunque meno mi aspettavo che l'Inter andasse a concludere E' vero che si parlava di un settimo centrocampista in aggiunta ai 6 che l'Inter già ha Molto probabilmente per dare un po' più di ricambio e anche un po' più di... Come dire, togliere un po' di pressioni a Sensi Visto che molto probabilmente Sensi durante l'arco della stagione non sarà sempre al 100% Ma tutto mi aspettavo tranne che l'acquisto di Klassen da parte dell'Inter Anche perché essendo un giocatore non in scadenza di contratto Immaginavo io che l'Ajax chiedesse dei soldi Invece fortunatamente, in questo caso per l'Inter, l'Ajax libera a zero Klassen a un anno dalla scadenza Senza troppi... anzi senza, mi sa, proprio richieste di soldi E l'Inter reingaggia un anno con l'opzione di un secondo anno a un milione e mezzo netto Che col decreto crescita è poco meno di 2 milioni E in questo modo è praticamente uno dei giocatori meno pagati della rosa dell'Inter E quindi, o questo significa, che l'Inter si può permettere di avere Klassen settimo centrocampista Ora, questa era l'ultima cosa, ripeto, che mi aspettavo da parte dell'Inter Anche perché si parlava di un settimo centrocampista In aggiunta, ribadisco, a quelli che l'Inter già aveva Fisico E se andate a vedere, nella carriera di Klassen, tutto è tranne che è un centrocampista fisico Anzi, è un centrocampista che fa molti gol Infatti, molto probabilmente, quello che, secondo me, è dove verrà impiegato Klassen Sarà riserva di Mkhitaryan Perché molti dicono, ok, hanno preso Klassen, l'Inter ha preso Klassen Perché andrà a giocare al posto di Ciala Secondo me no, visto che poi, alla fine, Aslani è rimasto Fortunatamente, ribadisco, perché secondo me era una cazzata Dar via Aslani per prendere Klassen Potevo capire ancora, ancora Klassen dentro E Aslani fuori in prestito Ma anche lì non avrei ben capito Perché poi, se resti comunque, voi o non voi È rimasto un po' scoperto nel ruolo di vice Ciala Perché, ripeto, se Ciala è il titolare, Aslani è il vice A sinistra è Mkhitaryan, mezzala Io penso Klassen, altra mezzala Di sinistra, Barella, frattesi sulla destra E Sensi che è il settimo centrocampista Perché secondo me è lui il vero settimo centrocampista dell'Inter Che farà un po' tutti i ruoli Anche perché secondo me Sensi ha talmente tanta qualità Se sta bene, che può giocare sia a mezzala Sia davanti alla difesa L'unica pecca che lo sappiamo ormai tutti quanti È il fisico di Sensi Ripeto, un'operazione last minute Sono quelle operazioni, secondo me, che rendono Secondo me il mercato bello Proprio perché negli ultimi giorni, nell'ultima settimana di mercato Si rianima il mercato C'è un mese dove non accade niente Che generalmente è agosto Tutto agosto Perché da quello che è ormai la mia esperienza Le trattative si fanno tutti all'inizio La maggior parte, tutte quelle che vengono ormai preimpostate All'inizio vengono fatti i primi colpi Che le società vogliono sicuramente assicurarsi Per far tutta la preparazione appunto a quei calciatori E poi c'è un momento di stallo E poi sul finale succedono cose strane Tipo Classen all'Intek Nessuno se lo aspettava Anche il Milan sta facendo Rafamir da nulla Il Frosinone prende il Regnier dal Real Madrid Cioè, così a caso accade Nei ultimi giorni di mercato E ribadisco Classen entra di diritto In una di queste trattative strane Che nessuno si aspettava Anche perché è un nome che nessuno aveva pronosticato In questi giorni si parlava di Ndombele Si parlava di centrocampisti fisici Come Fofana del Monaco Come Ducure forse C'era un centrocampista comunque francese Che sua mare dell'Est dovrebbe essere Comunque tutti i centrocampisti fisici E si è parlato anche a volte di Gravenberg In prestito Che per l'altro è andato a quasi 50 milioni a Liverpool Si è parlato di un sacco di centrocampisti Tutti tranne ovviamente Classen Anche perché si era sparsa questa voce Di un centrocampista fisico E quindi i giornalisti hanno iniziato a sparare nomi a caso Sì, ma di centrocampisti fisici Quindi nessuno ha azzeccato l'acquisto Questo fa capire quanto spesso e volentieri giornalisti Sparano nomi a caso Tanto per riempire i giornali Altro fattore chiave Perché secondo me l'acquisto di Classen È un ottimo acquisto E secondo me verrà utilizzato come mezzala Trequartista Ma come mezzala Perché nell'Inter non esiste il trequartista Vero e proprio Molti altri dicono anche che l'Inter Potrebbe giocare eventualmente in alcune partite O comunque in alcuni frangenti Perché è impossibile Che l'Inter inizi con altri moduli Che il 3-5-2 Ormai lo conosciamo in Zaghi Ma è più probabile che magari durante la partita Possa essere messo un centrocampista in più Magari aggiunto alle due punte iniziali O magari Lautaro con dietro Classen, Sensi Barella frattesi No a centrocampo Con le due trequartisti Sensi Classen O Cialanoglu è molto complicato Mkhitaryan è più probabile Dietro la punta Sono tutte soluzioni secondo me Che puoi sfruttare solo durante Una partita mai dall'inizio Lo conosciamo Ribadis Quinzaghi E se andiamo a vedere Per l'appunto Classen è un giocatore Che fa tantissimi gol Ha fatto tantissimi gol in carriera Ha fatto la bellezza di 120 gol E 65 assist Che per un centrocampista Si è andata a vedere tutti i centrocampisti Nel mondo ad oggi Uno di quelli che ne ha di più Però Devo dire una cosa C'è un però E' vero Ha fatto tantissimi gol La maggior parte li ha segnati in redivise E' proprio quello che mi preoccupa E Che se andate a vedere Nella carriera di Classen Lui ha fatto Ajax Dalle giovanili Cresciuto in prima squadra Poi ha provato a fare un'esperienza all'estero Prima all'Everton E poi a vedere Brema Per tornare di nuovo all'Ajax E fino ad oggi E ora all'Inter Bisogna dire che Nelle sue esperienze Fuori dall'Ajax Ha sempre fatto male Cioè nell'Everton Praticamente non ha mai visto campo Non ha mai visto Se andate a vedere Ha giocato 7 partite Ehm Ha giocato pochissimo Quando è andata al Werder Brema Ha fatto sicuramente meglio Perché Nella prima stagione Al Werder Brema Ha fatto 5 gol e 5 assist In Bundesliga Con 2 gol e 1 assist Nelle coppe tedesche Il secondo anno Il Werder Brema Ha fatto 7 gol e 6 assist Che sono in realtà Ottimi numeri E 2 gol e 1 assist Nelle coppe Un terzo anno Dove è tornato Poi a giocare All'Ajax Fino ha fatto 2 anni Fondamentalmente al Werder Brema Che comunque è il Werder Brema Per poi tornare nuovamente All'Ajax Facendo poi L'anno dopo Subito 17 gol Anzi 16 gol Complessivi L'anno dopo 13 gol L'anno dopo Ancora 10 gol Quindi comunque Poi è tornato a fare Ampiamente Gol in doppia cifra All'Ajax Nelle ultime 3 stagioni Ora L'unica cosa che mi fa Leggermente titubare Il fatto che All'estero Quindi Germania E in Premier Soprattutto Premier Perché poi Germania Non ha neanche fatto così male Non abbia brillato Però bisogna dire Ribadisco che all'Inter Viene 1 a 0 B Un anno di contratto Eventualmente Se fa bene Due anni Prende relativamente poco Per essere un calciatore Prende poco Perché un milione e mezzo Sono tanti Però per un calciatore Ovviamente sono pochi Poi un calciatore dell'Inter Sono pochi Oltretutto Viene a fare il sesto Settimo Centrocampista In base a Bisogna vedere Come e quanto Sensi e Aslani Stesso giocheranno Diciamo che Sensi, Aslani E Klassen Sono tre centrocampisti Che ruoteranno abbastanza E poi chi starà meglio Chi giocherà meglio Giocherà di più Perché ripeto L'Inter Barella Mkhitary Ancelano Grufrattesi Sono i primi 4 E poi ci sono questi 3 Che gireranno un pochettino E ripetisco Secondo me È un colpo Da 7 Niente di eccezionale Io do un voto 7 Avrei dato 6 e mezzo Perché non ho tante aspettative Sono interista Non ho tante aspettative Lo dico così Metto un colpo Le mani avanti Ma metto 7 Perché E il settimo centrocampista È venuto a 0 Quindi meglio di così Non si può E poi a 30 anni Non è neanche così Troppo vecchio Anzi 30 anni È una buona età Sei esperto Non troppo in l'accogliani Se sta bene Si integra bene All'interno dell'Inter È uno che può fare anche 3-4 anni all'Inter Cioè tranquillamente Quindi è un ottimo colpo Da questo punto di vista Fatemi sapere voi Nei commenti Cosa ne pensate Iscrivetevi Lasciate un like Come sempre Ripeto Fatemi sapere una vostra opinione Nei commenti Ci vediamo in un prossimo video E ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti